Il Comune di Lucera, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha predisposto in data 1 maggio dalle 19 alle 23 un intervento di sanificazione su tutto il territorio comunale attraverso atomizzatori trainati da trattori. Lo annunciano l'assessore al Verde Nicola Di Battista e il sindaco Antonio Tutolo, che spiegano che sebbene i formulati impiegati nel trattamento siano a bassa tossicità, nelle ore dell'intervento di sanificazione si raccomanda di non circolare per le strade cittadine, di non tenere sposte ed errate alimentari su balconi e verande, di non avere panni stesi sui balconi, di mantenere chiuse finestre e balconi e di avere cura che gli animali domestici siano all'interno di sanità. delle abitazioni, evitando che gli stessi vengano a contatto diretto con le sostanze nebulizzate.